signori la merda tra 30 minuti inizia lo spettacolo 30 minuti una vita si possono fare un sacco di cose in 30 minuti 30 minuti bastano per truccarsi e per ripassare il copione 30 minuti bastano per liberare la mente e concentrarsi 30 minuti bastano per ritrovare un'amica e per darle un buon consiglio 30 minuti bastano per farsi venire gli ultimi dubbi e per farli sparire in 30 minuti puoi fare tante cose e una è molto importante bastano 30 minuti per fare il tuo screening non restare dietro le quinte la vita è uno spettacolo partecipa alla campagna dello screening mammografico della regione piemonte per info e prenotazioni contattaci al numero verde 800 00 11 41